Use on Air, il programma di aggiornamento giurisprudenziale in diritto amministrativo, civile, lavoro e penale, a cura della sezione di Avellino del Movimento Forense. Benvenuti a Use on Air, la rassegna giurisprudenziale a cura della sezione di Avellino del Movimento Forense. Oggi esamineremo l'ordinanza della Corte di Cassazione Sezione Lavoro, ed esattamente la numero 31.155 del 3 dicembre 2018. Con l'ordinanza in commento, la Suprema Corte torna a pronunciarsi sul delicato caso del diritto di critica del dipendente nei confronti del proprio datore di lavoro o di un suo superiore. Difatti, la Corte di Cassazione ha affermato che la minaccia grave perpetrata da un dipendente nei confronti di un proprio superiore gerarchico, configura una violazione degli obblighi di collaborazione, fedeltà e subordinazione a cui è tenuto il lavoratore, e pertanto ciò è sufficiente a legittimare il licenziamento per giusta causa. Nel caso di specie, la Corte è stata chiamata a valutare la legittimità di un licenziamento quale sanzione irrogata a un dipendente che aveva minacciato il proprio superiore gerarchico per precedenti comportamenti posti in essere a suo danno. La Corte di Appello annullava il licenziamento disciplinare per giusta causa emesso dal giudice di prime cure e condannava la società alla reintegra del lavoratore nel posto di lavoro. Ciò sull'assunto dell'insussistenza del fatto contestato, in quanto l'unica condotta in astratto disciplinarmente rilevante non presentava quelle condizioni minime di serietà per poter essere valutata idonea a interrompere il vincolo fiduciario tra le parti. La vicenda, pertanto, giunge in Cassazione, la quale, accogliendo il ricorso della società, afferma che i giudici di appello non hanno operato una corretta valutazione del comportamento reiterato del lavoratore, il quale, pur a fronte di chiarimenti e risposte già ottenute e di denunce penali, ha ritenuto di proferire una minaccia di morte a freddo, cioè al di fuori di un contesto di una conversazione animata, nei confronti di un direttore responsabile, suo superiore gerarchico, in una situazione di conflittualità di rapporti lavorativi già riscontrati più volte dalle autorità penali in senso negativo per il lavoratore. L'ordinanza precisa altresì che la minaccia grave determina pur sempre un turbamento nel soggetto passivo e non è necessario che sia circostanziata, potendo, benissimo, ancorché pronunciata in modo generico, produrre un'alterazione psicologica avuto riguardo alla personalità dei soggetti coinvolti. Inoltre, prosegue la pronuncia, l'effetto della minaccia è quello della sua idoneità ad incutere timore nel soggetto passivo, menomandone la sfera della libertà morale. Pronunciata poi in un ambiente lavorativo, è necessario considerare, ai fili del giudizio sulla serietà della minaccia, l'effetto gravemente destabilizzante sull'attività aziendale, allorquando l'episodio diventa pubblico nell'ambiente di lavoro, nonché di considerare che comunque essa rappresenta comunque una violazione degli obblighi di collaborazione, fedeltà e subordinazione cui è tenuto il lavoratore nei confronti di un suo superiore. Un primo campo di indagine verte certamente sull'estensione del perimetro giuridico dell'obbligo di fedeltà disciplinato dall'articolo 2105 del Codice Civile. In sostanza, occorre capire se il superamento dei limiti al diritto di critica da parte del lavoratore, tale da ledere l'immagine del datore, comporti la violazione dell'obbligo di fedeltà. La giurisprudenza, divergendo dall'orientamento seguito da una parte della dottrina, ha affermato che il lavoratore si deve astenere non solo da tutti i comportamenti vietati dalla norma codicistica, ma anche da tutti quelli che, per la loro natura o le loro conseguenze, appaiono in contrasto con i doveri connessi all'inserimento del lavoratore nella struttura e nell'organizzazione dell'impresa, o creano comunque situazioni di conflitto con le finalità e gli interessi dell'impresa, o sono comunque idonei a ledere in modo irmediabile il presupposto fiduciario del rapporto stesso. L'allargamento del perimetro del dovere di fedeltà nei confronti del datore si basa sui principi generali di buona fede e correttezza di quegli articoli 1175 e 1375 del Codice Civile, con la conseguenza che sul lavoratore incombe il dovere di compiere tutto quanto necessario per salvaguardare l'interesse economico dell'impresa, sino al limite di un suo apprezzabile sacrificio. L'estensione, tuttavia, deve comunque essere mitigata dal limite dell'interesse proprio del dipendente, che non può, salvaguardando l'interesse altrui, subire un apprezzabile sacrificio personale o economico. Pertanto, la violazione dell'obbligo di fedeltà assume maggior risonanza e quindi deve essere più intensamente valutata se il lavoratore ricopre una posizione apicale all'interno dell'organizzazione aziendale. Ne deriva quindi che il diritto di critica deve essere vagliato caso per caso in virtù delle molteplici variabili che caratterizzano un rapporto di lavoro subordinato. Nella ricerca della legittimità dell'esercizio del diritto di critica del lavoratore non si può, pertanto, esimersi dal valutare anche l'ambito di diffusione del dissenso espresso. Infatti, la mancata esternazione della critica non è idonea a determinare effetti dannosi al datore di lavoro, mentre, viceversa, la critica pubblica, ossia quella manifestata all'esterno del rapporto interprivato, è potenzialmente capace di causare un danno all'immagine e al decoro dell'impresa. Nel caso affrontato dai giudici di legittimità, infatti, la minaccia di morte era stata proferita in presenza di altri colleghi, amplificando pertanto l'effetto lesivo della dignità morale del superiore gerarchico, senza tuttavia generare un reale danno economico. È proprio il mezzo di diffusione che pone in risalto l'elemento valutativo del danno provocato al datore di lavoro dalla critica espressa. In sostanza, solo una condotta lessiva del decoro dell'impresa, datoriale, suscettibile di provocare, con la caduta dell'immagine, anche un danno economico, è comportamento idoneo all'edere definitivamente la fiducia che sta alla base del rapporto di lavoro. L'esercizio del diritto di critica deve poi passare necessariamente attraverso un'attenta e specifica valutazione della rilevanza degli interessi che il lavoratore intende proteggere. Ne consegue pertanto, secondo un principio di pertinenza, che il dissenso del lavoratore deve essere funzionale alla tutela di interessi di pari rilievo giuridico, tale che l'eventuale lesione all'immagine o alla reputazione dell'azienda deve essere proporzionale alla difesa della sfera giuridica del lavoratore. Nell'analisi giudiziale, pertanto, si dovrà considerare l'intensità del dolo o il grado della colpa, quale adesione agli interessi del datore, in considerazione della posizione assunta dal lavoratore nella gerarchia dell'impresa. In sostanza, l'intenzione denigratoria del dipendente deve essere tale da compromettere la fiducia del datore circa la futura correttezza e lealtà che connota l'obbligo di fedeltà di cui è all'articolo 2105 del Codice Civile. Nel caso di specie, i predetti elementi sono stati correttamente valutati nell'ordinanza poiché involgenti un'analisi sulla sedietà della minaccia di morte idone a determinare un'eventuale rottura del vincolo fiduciario tra le parti e la possibilità di proseguzione del rapporto di lavoro. Uslo Web Radio 331-3097-852 www.webradiouslo.it Ascolta quando vuoi e dove vuoi Uslo Web Radio la radio per gli avvocati fatta da avvocati Scarica la nostra app per Apple e Android Tutti i giorni www.webradiouslo.it